Musica Nessun nuovo contagio e un solo decesso negli ultimi due giorni la potenza del coronavirus nella nostra provincia sembra quasi azzerata oggi è partita la fase 3, ok, alle visite nelle residenze per anziani via libera a sagre e feste aperti i punti di primo intervento a Castel San Giovanni e Fiorenzuola da oggi anche in Emilia Romagna si può scaricare la app Immuni nel TGL Il Parere dei Piacentini un maxi incendio è divampato in tarda mattinata in un capannone nella zona logistica di Ponte Nure la colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza super lavoro per i vigili del fuoco ieri domenica nera sulle strade piacentine un fuoristrada è finito in un dirupo in Val Nure quattro motociclisti caduti in Valtrebbia e Valtidone L'escrizione grazie a tutti